Allora, l'ultimo talk della prima giornata di U2Dest Italia è a cura di Agiti che è tra l'altro sponsor dell'evento e io accolgo Sharon e Stefano, mi metto in mezzo, ok, un applauso. Allora, loro ci portano un... Ah, il giraslide, Davide, il giraslide, dove sta? Davide, dove sta il giraslide? Scherzo, scherzo, l'ha lasciato lì. Allora, è un talk sul mess per U2, ma io ti devo fare una domanda, te la faccio da bugliese. Ma come si pronuncia? Mudu? Mudu! Va bene, ragazzi, scherzi a parte, siamo alle ultime battute, vi auguro buon lavoro. Buonasera a tutti, grazie per essere ancora qui dopo una lunga giornata passata qui dentro. Allora, questa non è la prima volta che siamo qui a U2Dest, infatti eravamo presenti anche l'anno scorso a presentare il primo progetto realizzato insieme a U2, ma di questo annuncio ne parlerò tra poco. Intanto contestualizzo, presento anche l'azienda, presento me stessa, io sono Sharon Federici, e il biglietto della visita dice Marketing Specialist di Agit Italy. E chi siamo? Agit Italy è un gruppo multinazionale leader in soluzioni e servizi per la trasformazione digitale delle aziende. La casa madre è in Spagna, ma abbiamo filiali anche specialmente in centro-sud America, quindi Messico, Argentina, Colombia e così via. E in particolare Agit Italy, appunto noi, ci focalizziamo su progetti in ambito manufacturing, quindi siamo al servizio di aziende manufatturiere di qualsiasi settore o dimensione, quindi spaziamo dall'alimentare al farmaceutico, non discriminiamo nessuno. Abbiamo due linee, due business line principali, appunto fabbrica digitale, che si occupa quindi di produzione, tutto ciò che riguarda la produzione, dalla gestione, pianificazione, schedulazione, quindi abbiamo soluzione APS, IoT per il collegamento macchine, e metto un pelo di enfasi sul mess perché è il motivo per cui stiamo qua oggi. Per quanto riguarda invece l'impresa digital, abbiamo la nostra soluzione ERP, gestione verticale, che è quello che abbiamo presentato in realtà l'anno scorso, con le varie app collegate, faccio un salto. Todo è infatti il primo prodotto realizzato insieme a Odoo, è anche grazie ad Apulia Software, non trovo cometa. Dal 2022 siamo partner di Odoo Italia, soci di Odoo Italia, e abbiamo appunto la business line, ha una vasta esperienza nel campo delle torrefazioni, infatti Todo è stato pensato come gestione di ERP per le torrefazioni di caffè, e ho pensato appunto per loro, in base alle loro esigenze, appunto conoscendo bene il settore, sapevano i miei colleghi quello di cui le torrefazioni avevano bisogno, come rispondere appunto a questi bisogni. Come dicevo prima, metto un pelo di enfasi sul mess, perché è il motivo per cui siamo qui, abbiamo vari anni di esperienza con il mess, appunto un team internazionale, chissà di cosa stiamo parlando, e anche il fatto che appunto abbiamo clienti di qualsiasi settore, sappiamo bene cosa cercano le aziende quando si tratta di un mess, quindi i loro bisogni, come soddisfarli, appunto abbiamo oltre 150 progetti mess all'attivo, quindi insomma sappiamo bene quali caratteristiche deve avere un mess per essere considerato tale. e quindi perché siamo qua? Siamo qua per rappresentare, annunciarvi forse meglio, Modu, mess o Modu, molto fantasioso, e lascio quindi la parola al mio collega che vi parlerà appunto di Modu. Grazie. Grazie Sharon, mi chiamo Stefano Raspadori, sono l'operation manager per l'Italia di Agiti, e quindi seguo i progetti di industrializzazione e digitalizzazione imprese, manifatturiere, tra cui i progetti mess. L'idea che abbiamo avuto è stata di perfezionare e introdurre un mess vero e proprio su Du, la domanda che sorgerà spontanea è sì ma definiamo cos'è un mess, perché soprattutto dopo il boom dell'industria 4.0 si sente sempre parlare di mess, a volte in maniera impropria, e quindi cominciamo a definire che cos'è un mess. Ci vengono in aiuto le definizioni che derivano dall'ISA 95, che è uno standard industriale di integrazione dei sistemi aziendali e di controllo, che è declinato in cinque volumi che non andremo certo a approfondire adesso, e il MESA, che è l'associazione Manufacturing Execution System Association, fondata nel 1992, e che è appunto, come dice la parola, l'associazione dei produttori di mess, e che ha creato le linee guida, le best practice del mess. e in questo senso ci illustra le caratteristiche e il perimetro che dovrebbe avere un software MES, per essere definito tale. Quindi è tracciabilità e genealogia prodotti, gestione e allocazione delle risorse produttive, analisi delle performance di risorse e tramite KPI, controllo di processo, l'acquisizione automatica dei dati in tempo reale, il controllo di qualità, legato ovviamente alla produzione dei suoi processi, la gestione degli operatori, con tutti i loro tipi di attività, che si possa declinare in vario modo, anche attività indirette, quindi non strettamente legate a una fase di produzione, dispatching delle operations, la gestione dei materiali relativa alla produzione, collegamento diretto con le macchine e gli impianti linee. Questo è giusto per dare un contesto, un contorno a quello che dovrebbe essere un software MES. Quindi perché siamo qui? Noi utilizziamo come IRP aziendale, noi stessi UDU, quindi il nostro software quotidiano, e lo conosciamo, e abbiamo visto, ovviamente c'è un modulo di produzione in UDU, ci sono tanti moduli, cosa gli manca per diventare un MES? E abbiamo fatto un po' un'analisi, una gap analysis, e abbiamo visto che cosa, in questo diagramma evidenziato a grandi linee, andrebbe migliorato, integrato o aggiunto, per poterlo trasformare in un vero e proprio MES. E ci sono dei punti da approfondire, come possiamo vedere qua. Ne andiamo a declinare maggiormente, quelli che vediamo in vari colori, sono o parzialmente coperti, o assenti, o comunque presenti in maniera minimale, e in ambito quindi produzione, abbiamo, non li sto a illustrare tutti, comunque abbiamo una gestione, che magari è deficitaria, sia nel modulo produzione, nel modulo device connection, vedremo come lo affronteremo, il controllo qualità legato agli stati dei processi, la tracciabilità, che in certe aziende, nella nostra esperienza, per esempio nelle aziende medicali, o farmaceutiche, deve essere molto spinta, o anche nell'alimentare stesso, il controllo di processo, con l'acquisizione automatica, il monitoraggio, eccetera, il controllo dei materiali, quindi la gestione, con anche il camband elettronico, con il dispatching dei materiali, nei diversi centri di lavoro, e nei diversi fasi di produzione, e quello che è la manutenzione, legata al processo, quindi anche la manutenzione predittiva, o schedulata, in un'ottica di gestione migliore, della produzione, che coinvolga anche questi processi. Quindi qual è stata la risposta a questa analisi? Creare un MUDU, è un progetto che è iniziato da un po' di tempo, e che prevediamo di mandare in live, con i primi progetti pilota, all'inizio 2025, e questo dovrebbe, nella nostra intenzione, coprire tutte e cinque le aree, proprie di un mess. Come vedete in alto, per la parte di device connection, non ci siamo reinventati la ruota, ma abbiamo creato una partnership con Zerint, che è già esperta di connessione macchine, e quindi nel nostro criterio, se c'è bisogno in un'azienda di collezionare o collegare dati dalle macchine, in questo caso coinvolgiamo Zerint, che è già un modulo funzionante, che ci porta i dati in UDU. Potrebbero essere aziende che non hanno macchine collegate, o reparti che non hanno macchine, esempio aziende che fanno assemblaggio, hanno un tipo di processo che non coinvolge direttamente le macchine. Nel caso ci affidiamo alla partnership con Zerint. e gli altri ambiti verranno coperti con tutti questi punti che vedete e che possiamo approfondire e magari in qualche colloquio abbiamo anche un banco esternamente, quindi possiamo approfondire anche i vari aspetti e andremo quindi a coprire le aree che vi ho illustrato con quello che secondo la nostra esperienza e i nostri clienti, i progetti che abbiamo implementato, sono le richieste e le caratteristiche di un vero e proprio MES che deve essere soddisfatte nei progetti implementati. Quindi in produzione, quello che vedete, gestione del modello aziendale, prodotti, ordini, dispatching elettronico, gli OE, il monitoraggio, il plant analysis, il controllo della qualità legata ai processi con gli ordini di collaudo e le prove entro la produzione a fine o durante il processo, rilevazione degli esiti delle prove e così via. La tracciabilità, appunto, gestione di lotti o matricoli a seconda della tipologia a partire dalle materie prime, i semi lavorati e così via, il controllo di processo nei suoi aspetti e la gestione dei materiali con le ubicazioni dei semi lavorati, delle materie prime, l'ubicazione anche durante la produzione, gestione dei prelievi materiali e quello che è anche il campan elettronico, così come la manutenzione preventiva, incidentale, predittiva e gestione anche di quello che è i ricambi e quindi il magazzino i materiali legati alla manutenzione con i loro aspetti. La partnership che vi dicevo prima con Zerint per sfruttare la loro esperienza nel caso di macchine che devono essere collegate da cui dobbiamo acquisire dati o a cui dobbiamo fornire dati. Ho cercato di essere breve così lascio spazio a eventuali domande e so che avrete anche voglia di finire la giornata e di fare aperitivi. Grazie, grazie Stefano. Ci siamo? Qualche domanda? Niente. Qui secondo me hai dato proprio il colpo di grazia. Finale, finito. Va bene. Faccio io se vuoi. Vai, vai, vai Marcelo. Ma dovevi alzare la mano? Alzare la mano posso? Datti il microfono. Mi do il microfono. Parlavi di un processo di implementazione con previsione 2025 e quindi siete in fase di disegno di layout? Dalli il microfono perché se no c'è solo il parlo. Siamo in fase di disegno e realizzazione. Prevediamo di avere le prime metodo da testare fine 2024 e inizio 2025 e fare i progetti pilota nei primi mesi 2025. Posso fare una domanda provocatoria? Collegandomi al discorso di prima al talk di Davide in questa fase qua visto che state pensando come metterlo giù la cosa migliore da fare sarebbe aprire un documento dove questi punti vengono dettagliati come intendete implementarli con quale metodologia e pubblicarla attraverso anche il nostro canale in modo tale che se c'è qualcuno anche io che magari ne ho bisogno e posso contribuire con le mie necessità dandovi dei contributi questo è uno spunto sicuramente perché no e perché no quando arrivate al punto dello sviluppo se ce n'è bisogno possiamo anche contribuire e sviluppare insieme perché questo è il concetto di fondo partire dalle esigenze mettendo insieme più esigenze sicuramente verrà fuori un prodotto migliore dividiamo anche il carico di trasporto per arrivare alla fine perché tutti i punti che hai elencati nel nostro ambiente è sentito e attualmente è sviluppato un po' rattoppato sì non è che sono tutti assenti sono presenti presenti parzialmente sono un po' così o a volte legati o non connessi o non integrati per quello che ti dicevo che il momento opportuno è proprio adesso se avete proprio il tempo per poter decidere come fare se condividiamo le esigenze quindi gli obiettivi la blue paper di dove si vuole arrivare è il primo punto proprio per coinvolgere e portarsi a casa delle risorse nuove o interessate per portare avanti il progetto è diverso che tu già presenti anche se lo pubblichi il risultato finale dice l'ho fatto così vabbè ma se tu dici lo vorrei fare così intanto fai una prima cosa molto interessante che è la documentazione perché l'hai fatto così quindi giustifichi l'ho disegnata in questo modo ho coperto come l'hai fatto perfetto sulle slide dicendo tutti questi punti per questo ogni punto lo svilupperò con questi moduli con queste filosofie e dopo quindi fai già la documentazione di fatto nel progetto c'è già un percorso del genere che stiamo affrontando sicuramente può essere in contributo alla community prezioso potrebbe essere una buona occasione nella nostra esperienza abbiamo un'idea abbastanza precisa di quello che dovrebbe servire ma sicuramente avere dei feedback comunque anche altre persone è sicuramente utile grazie certo allora direi che possiamo congedare Stefano a shot on 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 Grazie a tutti